benvenuti in questo video di redhead redemption 2 oggi sono qui per mostrare l'esatta posizione di un'arma unica la spada da pirata spezzata un'arma davvero figa che non può mancare nel vostro arsenale quindi ora vi mostro esattamente sulla mappa dove si trova questa arma si trova più o meno a sud ovest di san denis su una piccola isoletta nel terreno paludoso in questo terreno dovete stare molto attenti perché è pieno di alligatori quindi fate molta attenzione perché potreste rischiare di perdere il cavallo e morire una volta sull'isola potremo trovare una piccola imbarcazione spezzata con al proprio interno la spada e uno scheletro probabilmente del pirata a cui apparteneva la spada beh spero che il video vi sia piaciuto io vi invito ad iscrivervi a lasciare un mi piace per non perdervi le prossime guide su redhead redemption 2 qui per ora è tutto alla prossima